Istat avvia una nuova campagna di comunicazione sui censimenti permanenti, l'importanza dei quali ormai è sotto gli occhi di tutti. L'obiettivo che abbiamo con questa nuova campagna non può prescindere dal tendere, diciamo così, un filo diretto con i diversi stakeholder e partner istituzionali cui si rivolge principalmente a questo nuovo prodotto che noi amiamo chiamare il diario dei censimenti. Che cos'è il diario che vi proponiamo? È un diario a tutti gli effetti, ovviamente un diario online con periodicità mensile. Comunque si propone di continuare a tenere vivo il racconto dei censimenti man mano che essi vengono effettuati, ma soprattutto si propone di valorizzare e moltiplicare le occasioni di narrazione dei dati. Noi, come al solito, parliamo dei dati. Parliamo dei dati partendo dai dati e questo primo numero lo dedichiamo alla narrazione dei risultati del censimento delle istituzioni non profit rilasciati, questo ci tengo a dirlo, a soli cinque mesi dalla conclusione della rilevazione. I dati sono importanti, il racconto dei dati contribuisce ad aumentare la consapevolezza dei cittadini per la lettura del Paese.